Salve a tutti, sono qui con Lorella De Luca, naturopoda, insegnante di meditazione e nonché esperta di Genesa Crystal. Correggimi se è Genesa perché io non sono esperta in questo senso. Prima di tutto per l'ospitalità, per avere la possibilità di essere nella tua trasmissione. Si chiama Genesa Crystal. Per me è uno strumento nuovissimo, quindi non credere che io sia esperta perché in realtà non lo sono, semplicemente sono una ricercatrice. Ecco, quello è importante. Da quando ho fatto il 2017 ho fatto tante ricerche e soprattutto l'ho sperimentata su di me e su tante altre persone e ho raggiunto delle scoperte, delle conclusioni. Ma esperta non mi ritengo assolutamente perché comunque… Beh, allora sei sei comunque in ogni caso modesta perché anche hai scritto un libro, quindi comunque sei… hai sicuramente più esperienza di altri perché poi le… Sì, ma forse è quello sì, un po' di esperienza perché comunque sono una ricercatrice da tantissimi anni di metodi di guarigione olistica. Sì. Quindi da naturopata poi ho sperimentato la meditazione, ho sperimentato la radionica, la numerologia e poi alla fine è arrivata… Alla fine, all'inizio, diciamo che un nuovo inizio è stato con la Genesa, che raggiude in pratica un po' tutti gli studi che ho fatto in sé. Ah, ecco. E allora dici che cos'è intanto la Genesa? Allora, intanto è un circuito radionico in tridimensione. La radionica è quella, diciamo, nuova scienza che studia il potere della forma. Sì. Quindi dice che grazie alle forme geometriche l'etere, ovvero quell'energia invisibile che permea tutto, si muove. Sì, ok. All'inizio, cioè, inizialmente radionica era in 2D, ovvero il circuito era stampato. Sì. Si può trovare, stampare… Cioè, stanno tantissimi, è vero. Sì. Questo invece è diventato in 3D, perché come vedi ha una forma geometrica… Esatto. …dove c'è anche una profondità. E quindi racchiude in sé tantissimi altri circuiti, perché all'interno di questa forma noi possiamo vedere dei quadrati, dei triangoli, ma se lo vediamo anche in una dimensione più profonda, si possono vedere anche i solidi platonici. Ok. Quindi il Q, l'Ottaedro, il Tetraedo, si potrebbe vedere anche una Merkaba, perché se noi guardiamo i due quadrati che si intersecano tra di loro e formano la piramide, quindi la base quadrata con la punta, e lo guardiamo sia sotto che sopra, diventa una Merkaba, che è un'altra forma geometrica molto importante. Inoltre, contiene il fiore della vita come forma geometrica, diciamo, di base, perché all'interno di questi cerchi, che si uniscono uno dentro l'altro, possiamo vederci anche un fiore della vita. Quindi, partendo dalle forme geometriche, ho iniziato a ricercare un libro molto importante, che per me è stato molto importante, quello di Davison, che parla del potere della forma. Sì. Grazie a questo libro, ho capito che anche la Genesa sfrutta il potere della forma, ed è per questo che ci dà dei risultati. E uno potrebbe dire, ma come fai a dirlo, visto che è una cosa invisibile? Eh, perché partiamo dal presupposto che esiste un campo quantico nella parte invisibile, che prima ho chiamato Ettere, ma in realtà si può chiamare anche Matrix Divina, secondo Greg Braden. Sì. Oppure un campo quantico, secondo la fisica dei quanti. E questa sfera che cosa fa? Emana, grazie alla sua forma, questa energia quantica, sia all'interno della sfera, ma anche la emana fuori, in ogni direzione. E questo è stato scoperto anche dal genetista Langham nel 1950, più o meno negli anni 50, che ha, diciamo, creato la Genesa Crystal per dare ai terreni la fertilità che mancava, perché in quel momento storico c'erano dei problemi di coltivazione dei terreni perché erano infertili. E lui ha pensato alla forma della vita, all'atomo. Sì. All'atomo che forma la vita e quindi da lì è venuta l'idea di creare la Genesa Crystal come strumento e si è accorto che dava al terreno quel nutrimento che gli serviva per poter ripristinare le coltivazioni. Ed ecco che da lì poi si è scoperto che anche a contatto sul corpo e a contatto con gli animali o le piante, la Genesa dà delle particolari frequenze, vibrazioni che aiutano al benessere. Ok, quindi è utile per esempio durante la meditazione, durante i trattamenti ulistici Reiki, Shatsu, quello che sia, perché comunque crea un campo energetico idoneo, diciamo, e pulito sicuramente. Quindi funziona proprio anche per questo, perché aiuta l'ambiente, aiuta l'operatore, immagino che si sente anche bene. E' un campo energetico idoneo di energia, quindi fai conto che hai l'orgone, in pratica si è scoperto, secondo Reich, che c'è diciamo l'energia organica, quindi a volte fanno anche dei tessuti inorgonite oppure delle pietre di organite, fanno diciamo dei dispositivi. Ecco, la Genesa può essere equiparato all'orgone, quindi potenzia ancora di più i trattamenti che noi andiamo a fare. Ok. E inoltre è adattogena, nel senso che se la persona sta bene potenzia già l'armonia che ha e quindi aiuta a mantenerla. Se la persona in quel momento è scarica e ha bisogno di armonia, la Genesa tende invece ad armonizzare, a portare quell'energia che manca al corpo o alla psiche, anche perché a volte siamo stressati, abbiamo bisogno di liberare la mente, ed essa ci può aiutare anche semplicemente posizionandola vicino al corpo, durante magari un trattamento, a ripristinare quell'energia dei nostri chakra che ci animano e che ci danno la vita. Ho visto che esistono anche dei ciondoli con la Genesa, ecco, sì, infatti. No, oggi in argento, sì, io diciamo che ho creato sia la Genesa ma anche altre forme come la pentasfera, il fiore della vita, sempre da indossare. E ognuno di loro ha un'informazione diversa, proprio perché ha una forma diversa. Partiamo dal presupposto che la forma dà un'informazione all'energia, all'etere e al corpo. Quindi la Genesa ti dà quell'informazione di armonia, di equilibrio, anche, come dire, di radicamento alla terra, perché ha come forma prevalente il 4 e il 3. Il 4 è il quadrato e il 3 è il triangolo. E il 4, numerologia, è il costruttore. E' colui che costruisce, che quindi porta a terra. Ecco perché ti aiuta anche a realizzare delle intenzioni, viene utilizzata spesso e volentieri per chiedere dei desideri. Perché essendo che la forma geometrica, diciamo, ha in sé il 4 come numero, ti aiuta a connetterti all'energia del 4 che costruisce. Ok. Poi, ovviamente, voglio specificare una cosa, che non è la panacea. Cioè, questo strumento aiuta ad aiutarsi, ma non è lo strumento stesso che fa. E' più la persona che, mentre utilizza lo strumento, cambia il suo campo energetico del cuore, la sua predisposizione, i suoi pensieri e le sue azioni, per cui muove tutto quello che nell'universo convoglia quella realizzazione, diciamo. Certo. Però non bisogna dirlo, perché sennò sembra che stiamo parlando di un oggetto... Magico. Magico. Che, tra l'altro, si potrebbe anche chiamare magico, perché magia, per me, significa utilizzare i poteri dell'universo. Però, non inteso come magia che fa senza che noi facciamo nulla, no. No, no, certo, assolutamente. Senti, ma tu le costruisci anche in queste genese? Ecco, tu hai un sito internet, Lorella Deluca? L'orelladeluca.it, ho una pagina Facebook e un profilo personale. Sì. Ok. E senti, una cosa volevo chiederti. Ok, mi arriva a casa una bella genesa e io cosa devo fare? La devo attivare? Come entro, diciamo, in sintonia e come la utilizzo, poi? Allora, io quando la costruisco già sono in allineamento con la genesa e con quella persona che mi ha chiesto la genesa. Sì. Per cui è specifica, secondo la data di nascita di quella persona, è specifica con delle preghiere, dei mantra e, diciamo, dei trattamenti miei energetici che faccio già sullo strumento, perché parto dal presupposto che tutti noi maniamo un magnetismo nelle mani. Nel nostro, diciamo, muovere le mani e costruire le cose. E se tu quel magnetismo lo convogli verso il bene di quella persona mentre stai costruendo un oggetto, parlo anche della signora che fa l'uncinetto o di qualsiasi altra persona che fa, non so, il cuoco mentre cucina. Esatto, mentre cucina. Tutti noi possiamo emanare questo magnetismo e dare, diciamo, un'informazione diversa all'oggetto. Quindi uno dei miei oggetti arriva già nella casa della persona attivato da me, dal mio, diciamo, potere personale. Ma poi è importante che la persona dia un nome, perché io credo che poi diventa come un essere vivente la genesa, diventa qualcosa di prezioso e di vivo. Essendo che tutto ha una coscienza a livello quantico, anche la genesa ha una coscienza e quindi è importante dare un nome. E quindi la persona semplicemente si mette in rilassamento, in accoglimento di questo strumento e gli dà un nome e gli dà il benvenuto. Come uno crede, non c'è un metodo particolare, semplicemente è un atto d'amore, come quando noi accogliamo un figlio nella nostra vita o un nuovo animale o un nuovo essere, è la stessa cosa. Invece per quanto riguarda i desideri, si mettono dei bigliettini dentro, come funziona? Funziona che si può appoggiare, vedi, solo in due modi. O solo sul quadrato, in questo modo, e si mette il desiderio perché si vuole attrarre qualcosa nella nostra vita. Ok. Non c'è l'etere del numero 4 che è il costruttore, che quindi convoglia le energie dell'universo per costruire e portare a terra qualcosa che è nella nostra mente, che è ancora etereo. Invece sul lato del triangolo possiamo mandare dei trattamenti a distanza, in questo modo è sul lato del triangolo. Ok. E serve portare da dentro la genesa a qualcuno qualcosa, un'energia buona, un trattamento. E quindi si può scrivere il nome della persona che vuole ricevere il trattamento, la data di nascita. Sì. E in quel momento diciamo che questo strumento è come se proiettasse, come il cellulare che quando tu vuoi chiamare una persona digiti il numero. Sì. Qui è la genesa che tramite la data di nascita, che sarebbe il codice della persona, manda un'energia con un'intenzione particolare. Quindi se quella persona ha bisogno di stare meglio, si può dire di stare meglio in salute. Sì, quindi l'intento. Per ottenere un lavoro si può chiedere alla genesa anche di ottenere un nuovo lavoro, per dire. Dopo lì è a discrezione personale, cosa chiedere? Solitamente io invito le persone a vivere bene con quello che hanno. E quindi essere grati, vivere nella gratitudine di tutto ciò che abbiamo. Per poi far arrivare anche quello che ancora non abbiamo. Ma non consiglio mai di scrivere solo il desiderio senza, diciamo, avere prima apprezzato quello che già si ha. La gratitudine è importantissima, è vero? Sì, tra l'altro io... Poi ti senti sulla mancanza in realtà, quindi deve essere qualcosa in aggiunta a quello che hai. Quindi sei grato di quello che hai e vorresti anche aggiungere altro. Perché se dici voglio il lavoro perché sono disoccupato, ok, sei già sintonizzato sulla mancanza e magari neanche credi che fare questo ti possa aiutare, quindi non funzionerà. Io consiglio a chi non ha un lavoro disoccupato magari di rendersi conto di quali sono i suoi talenti e magari sfruttare meglio il suo talento piuttosto che andare a lavorare come dipendente, fare un lavoro che non piace solo perché si ha bisogno di soldi. Piuttosto che invece magari guadagnare un pochino meno e come faccio... Però essere felici. Per essere felici, per avere tempo per noi stessi e per vivere e per goderci la vita. Sì, questo è decisamente importante. Ho visto nei vari gruppi Facebook dove mettono proprio dentro tantissimi nomi, cioè si può fare un qualcosa anche cumulativo? Sì, esatto. Basta solo chiedere alle persone che cosa, qual è la loro intenzione e poi magari fare un tema comune. Di solito si fa il tema comune o per l'amore o per il denaro o per le relazioni, il lavoro, eccetera. E scrivere tutti i nomi con le date di nascita e inserirli in Genesa. Ok. Sì, è possibile. E quanto tempo si lascia questo foglio dentro? Io solitamente quando mi ricordo, poi a un certo punto li elimino perché non vado a tempo. Ormai per me il tempo non esiste più, cioè non faccio caso al tempo. Diciamo che il bigliettino lo inserisco in Genesa, poi quando sento dentro di me a sentimento che è il momento di eliminare, lo elimino. Però ci sono varie scuole di pensiero, c'è chi dice un'ora, chi dice un giorno. Lì io credo che ognuno di noi debba sperimentare. Deve sentire, certo. Sono più d'accordo con te sicuramente perché ci può essere un minimo di tempo. Certo non puoi tenerlo lì un minuto perché non ha fatto nulla sicuramente, però poi bisogna sentirlo quando è abbastanza. Che altro ti volevo chiedere proprio su questo? Dunque, intanto facciamo vedere il tuo libro perché comunque hai scritto un libro proprio, immagino che lì ci sia spiegato un po' tutto quello che stiamo dicendo. È un libro abbastanza fornito di tante indicazioni. Adesso ti faccio vedere anche un po' l'indice. Si parte dal perché è stata creata, quindi la forma intesa come la geometria sacra. Si parla del perché viene chiamato anche circuito radionico. La fisica quantistica che spiega anche perché funziona. In pratica sono tre sezioni. C'è la sezione dei saperi che ti dice da dove è stata, come è stata creata e perché funziona. La sezione del cuore è come risvegliarci a livello spirituale con l'utilizzo della genesa, come sviluppare meglio i nostri sentimenti, la nostra coscienza, anche tramite delle meditazioni e degli esercizi. E la sezione tre è proprio come utilizzarla nella vita di tutti i giorni. Ok. Ed è, diciamo, una bellissima sezione perché come vedi è molto fornita. Eh sì, molto fornita, è vero. Il trattamento sugli animali, come programmare l'acqua, come programmare una crema da viso o addirittura come attivare la ghiandola pineale perché ho voluto parlare anche di risveglio spirituale, non potevo non citare la ghiandola pineale che è preposta al nostro risveglio. Bellissimo, sì. Sì, ci ho messo un po' tutta la mia ricerca di vita perché io arrivo dalla meditazione, dall'utilizzo delle onde cerebrali teta con la riprogrammazione, diciamo, dell'inconscio per poi arrivare anche all'utilizzo dei vari rimedi come i fiori di bacche e tutto il resto. Per cui c'è un po' tutto qui. Un po' tutto. Ho capito, ho capito. Senti, per quanto riguarda la meditazione, so che esistono proprio le genesa quelle grandi, dove tu puoi mettersi dentro. Sì. Ecco, quello deve essere sicuramente, sensazionalmente parlando, una sensazione veramente di energia potente per chi ti trovi all'interno di un campo energetico particolare. Sì. Mi viene. E diciamo che uno ha la sua sensazione, c'è chi sente formicolio all'interno di quella genesa, c'è chi sente calore, c'è chi sente... Librazione anche. ...di elevazione, come se il corpo evitasse. Lì dipende molto dalle aspettative che uno ha, perché come ben sai noi siamo fatti di corpo, mente e anima. Quindi fa un grande gioco anche l'aspettativa che uno ha di quando entra nella genesa. Quello che posso dirti è che nella mia esperienza ho avuto parecchie guarigioni santanee dentro la genesa. Accidenti! Sì, tra cui due uomini, ti dico anche che tutti e due avevano lo stesso sintomo, e avevano entrambi, ti dico il sintomo, che ti metti a ridere, però avevano tutti e due questi uomini che ho aiutato dentro la genesa, avevano le emorroidi, che come tu ben sai sono molto fastidiose, dolorose. Esatto, esatto. In entrambi ho avuto un ottimo successo, inaspettato, perché non me lo sarei mai aspettato, nel giro di una meditazione di mezz'ora, nel quale io ho fatto comunque parlare, perché sono anche counselor, per cui sapevo dove andare a toccare, quali corde toccare, quale riprogrammazione fare a livello verbale, e dopo la meditazione non avevano quasi più niente, cioè roba che dovevano andare ad operarsi perché non sapevano neanche come entrare nella genesa, perché avevano dolore al fondo schiena. Quindi pensa, sì, assolutamente. E per me quella è stata una rivelazione, perché ho pensato, vedi come anche portare una persona dentro una sfera del genere, come se uscisse dal suo mondo, è entrato come nel grembo della mamma, è entrato come in un grembo di qualcosa che lo accudiva, che lo proteggeva. È proprio un'altra dimensione, certo. E io li ho visti proprio strabiliati, perché erano intanto due persone che non hanno mai fatto meditazione, mai fatto uno studio di questo tipo, scettici, non scettici, però nuovi. Nuovi a questo, sì. Proprio nuovi, e quindi mi ha anche confermato che non serve credere. Cioè quando tu utilizzi uno strumento di questo tipo, è proprio l'energia che emana lo strumento che fa. È necessaria secondo me solo la nostra disponibilità, un po' come Reiki, io sono master di Reiki, e sicuramente funziona anche sugli scettici, ma gli scettici aperti, quelli che non credono ma sono aperti a sperimentare, quindi non pongono barriere. Evidentemente questi due uomini si sono affidati a te, e quindi si sono fidati, hanno detto proviamo a prescindere se ci guadiamo o no, è andata. Esatto. Sì, ma ancora quando mi vede, perché uno è il mio meccanico, quando mi vede ancora mi ringrazia perché dice, oh Lore, io dovevo andare a operare, ma io non so che cosa mi hai fatto. Guardi, io non ti ho fatto niente. Niente, tu ti sei reso disponibile a migliorare e quindi a guarire poi, insomma. Sì, ma poi è una magia perché lui poi ha cambiato anche il suo atteggiamento, perché il problema poi arrivava anche da una situazione familiare un po' di malessere, e ha cambiato anche il suo atteggiamento nei confronti della famiglia. Quindi questa è la cosa più importante per me, che lui abbia cambiato le sue frequenze. Ma se non fai questo, sì, magari il sintomo può andare via, ma poi si ripresenta magari in un altro punto del corpo. E se invece lui ha lavorato su questo, sicuramente è totalmente fuori. Ma senza sapere nulla comunque. Sì, 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 no, ma questo l'ho capito benissimo, è che comunque è strabiliante questa cosa, veramente, perché effettivamente non pensavo potesse riuscire a fornire questa cosa particolare, insomma, perché l'ho sempre vista, ecco, con i fogliettini le cose, sì, ripulisce l'ambiente, perché poi più è grande e più ovviamente ha un campo d'azione di pulizia, quindi è normale, è più efficace in questo senso, insomma. Sì, se vuoi te li dico anche un po', il campo di una così, che è due centimetri di diametro, più o meno copre 80-100 metri di raggio di azione. Un'altra come questa, che questa sarà un 16 centimetri, ti copre un buon 500 metri. E che non è poco, è già oltre il tuo appartamento, in ogni caso. Sì, e poi arriviamo invece a quella da 32 che arriva anche su un chilometro e poi via via le altre vanno oltre. Adesso non so fare tutte le, diciamo, le equazioni, però io ti devo dire che ne ho una gigante fuori in balcone, perché era quella dove ci ho fatto fare i trattamenti a queste persone, che però ultimamente ho dovuto mettere sul balcone per una mia protezione, perché mi hanno installato dei pali della luce innovativi. All'interno c'è anche il wireless del 5G. Accidenti! Qui io subito quando l'ho saputa sono andata nel panico. Poi ho detto, ma aspetta un attimo, perché devo andare nel panico quando io costruisco dei dispositivi che proteggono? Esatto. Io metto tranquillamente, io metto, perché a livello magari psicologico io vederla sul balcone mi sento meglio, no? Sì. Quindi l'ho portata dal salotto fissa sul balcone. Sì, e come hai detto tu è una cosa psicologica, perché in realtà se la tieni dentro ti proteggia anche fuori, visto che è grandissima. Però ho detto, no, la voglio mettere lì perché voglio dare a me stessa quell'idea che tutto il vicinato, che tutta la mia casa e tutto questo quartiere è comunque protetto. Infatti da quello che so non le hanno ancora accesi, non penso che sia ancora in atto. Vabbè, ma pure se le accenderanno tu sei già pronta. Esatto. Esatto. Senti, mi viene da pensare ad una cosa così, mi è arrivata un attimo la piramide, no? La piramide energetica, se andiamo a vedere, fa più o meno le stesse cose ovviamente, piccola, più grande, eccetera. Quindi quale può essere la differenza con la piramide secondo te? Diciamo che io non sono esperta di piramide, non l'ho sperimentata tantissimo, se non quella da 40 centimetri che ho su un comodino, ci carico le pietre, l'acqua, eccetera. Che io, infatti, sì, sì. Però quella grande, starci dentro, non l'ho mai sperimentata e non ti so dire che sensazione mi dà e che differenza può esserci. Però a livello di forma geometrica, io credo che la Genesa sia più completa. Più completa, certo. Questa contiene due piramidi messe una sopra l'altra, interseca, perché essendo una sfera, essendo questa una sfera, è come se la base della piramide fossero questi quattro qua, con la punta al centro e anche l'altro con la punta al centro. Quindi è come se ce ne fossero due intersecate ed è quindi secondo me più completo. Certo, certo, perché comunque richiava la piramide. Certo, però ha di più. È più, diciamo, completo che l'energia vada più direzioni, perché la piramide da sola prende dalla Terra e va verso il cielo. Invece questa può prendere dalla Terra, andare verso il cielo e dal cielo prendere e portare verso la Terra. Quindi ce le hanno due. Ah, ecco, questa non lo sapevo. Ok. Sì, e di conseguenza sì. Che è come se avesse le due piramidi più e meno che collaborano e quindi si complementano. Giusto. È più complementare, penso. Però è una cosa che penso io e non sono un'esperta, ripeto. Io non sono nessuno. Eh no, ma guarda quante cose ci hai detto. In realtà non è vero che non sei un'esperta, perché sei una grande ricercatrice, perché altrimenti tutte queste cose non le avresti potute spiegare e neanche scrivere. E' gentile a dirvelo. Diciamo che rispetto a chi è più, diciamo, addentro... Ah beh, c'è sempre qualcuno più esperto di noi, ma questo in tutti i campi, questo non significa che non sei all'altezzo di spiegare un qualcosa che oltretutto costruisci pure, no? Sì, sì. Diciamo che forse è l'amore per questo strumento che mi ha dato modo di conoscerlo, anche se non ho studiato, diciamo che il mio è un sentire, è un'intuizione che mi arriva dal cuore di quello che è, più che aver studiato dei libri o aver fatto chissà quali... Come ti è arrivata la prima Genesa? Eh, mi è arrivata proprio perché c'era questo gruppo che ogni tanto diceva oggi metto a disposizione la Genesa per l'amore, chi mette il suo nome, cioè chi vuole metta il suo nome, io mettevo il nome e poi succedeva qualcosa. E conoscetevo una persona, boh, poi un'altra volta per il lavoro e mi arrivava delle nuove consulenze da fare, dei corsi da svolgere. Poi ho detto, vuoi vedere che funziona? Allora un bel giorno la volevo acquistare, ma dico la verità, in quel momento storico non avevo problemi di soldi e non potevo acquistarla e quindi ho detto vabbè, l'aspetterò e l'acquisterò più avanti. Poi incontro la mia amica Antonella di Bologna che l'aveva fatta da sola lei e io ho detto Antonella me la fai tu ti prego, mi fai una Genesa, ti faccio una seduta, ti faccio, ti do il mio libro della carta della gratitudine e lei, no Lorella te la devi costruire da sola come ho fatto io, è impossibile, non ti riuscirò mai a costruirla, è troppo perfetta, io non ero brava in tecnica, poi non so neanche tenere in mano un trappano come farò, no guarda, ce l'ho fatta io, fidati, ce la puoi fare. Allora mi manda le istruzioni, io vado ad acquistare il materiale e poi con l'aiuto di mia figlia Gaia ci mettiamo al lavoro ed è stato bellissimo perché fin dall'inizio e la mia l'ho chiamata Ape Crystal perché mentre la stavamo creando c'era un'ape che ci gironzolava intorno e tra l'altro mia figlia è fobica, ha la fobia delle api e degli insetti e già mentre la costruivamo mia figlia non aveva paura delle api quindi ho detto qualcosa sta succedendo. Eh sì, eh sì, assolutamente. E non scherzo, io appena ho finito la Genesa mi hanno chiamato due persone che mi hanno confermato due miei corsi e in più un mio amico mi ha detto che veniva a vivere a Roma, un mio amico di Rimini per cui si era mosso qualcosa anche a livello dell'amore. Io ho detto vuoi vedere che funziona? E dopo da lì è stato un'escalation perché comunque ho messo la foto su Facebook che l'ho costruita, tante persone hanno iniziato a chiedermela, io ho iniziato a ricercare perché funziona, devo capire perché funziona perché sono una che ha anche l'emisfero sinistro che lavora molto oltre al destro, creativo anche. E allora lì mi si è aperto un mondo perché se tu vedi ha anche 12 snodi, oltre a essere composta da quattro cerchi che secondo me equivalgono ai quattro elementi della natura, terra, acqua e fuoco, ha anche 12 snodi, quindi questi sono 12 snodi e il nostro DNA infatti ha 12 filamenti. Guarda ganso. Poi ho iniziato a collegare, poi ho iniziato a collegare la numerologia, il 4, il 12, le varie forme geometriche, allora ho pensato che fosse uno strumento che contiene il tutto, perché il cerchio in sé, quando ogni cerchio ha quella, diciamo per fare il diametro del cerchio c'è quella formula che si chiama il fi, il 314. Sì, sì. Il 314 è una formula che contiene in sé tutti i numeri che esistono al mondo, cioè mi sono proprio andata a vedere che cos'è il 314, che ha un nome specifico che non mi viene in mente adesso, il fi comunque viene chiamato, e che ha in sé tutti i numeri del mondo, tutte le combinazioni, quindi ha in sé il tuo numero di telefono, il mio, la tua data di nascita, la mia, cioè tutto di tutto. Ah, ho detto ecco perché funziona anche per realizzare i desideri, perché qua ci sono quattro volte il fi, quattro volte l'infinito, quattro volte il tutto. E allora se tu chiedi a questo strumento, lui ti va a pescare dal tutto del tutto, perché in quantistica ci dicono che tutte le realtà sono una sopra l'altra coesistenti. Quindi c'è anche quella realtà che tu vuoi realizzare. E allora ecco perché ti va a pescare proprio il tuo desiderio e te lo porta, perché è una sfera dalle infinite possibilità. Questo ho, diciamo io, intuito, il perché funziona. E da lì poi tante belle cose, tra cui sono riuscita ad avere una macchina nuova quando la mia si è rotta di punto in bianco e ho chiesto la macchina nuova, che però non è nuova nuova. Cioè per me è nuova perché è la mia prima macchina intestata a me dopo il macchino con la, diciamo, la separazione e il divorzio. Però nuova ne ho inteso che è tenuta benissimo come nuova e però l'ho pagata 2000 euro, pochissimo. Quindi pochissimo, certo. Cioè tu chiedi e ti arrivano le, diciamo, le occasioni. Come per esempio una volta ho scritto voglio viaggiare e dopo qualche tempo mi chiedono un corso sulle Genesa a Venezia, quindi dopo una settimana. Io nel giro di due mesi sono andata a Venezia a fare un corso e una mia amica dopo tre settimane, Elena, che la saluto Elena Angelucci. Ciao Elena, grazie. Mi dice, eravamo a luglio, mi dice Lorella cosa fai a fine gennaio, inizio febbraio? Ma non lo so perché mi fai questa domanda? Eh perché sto prenotando un viaggio alle Maldive, volevo invitarti a venire con me. E quindi io sono stata adesso quest'anno a gennaio alle Maldive, prima che chiudessero le frontiere, quindi abbiamo avuto anche un bel... Sì, puttini puttini. E siamo ritornate appena in tempo perché dopo c'è stata la chiusura delle frontiere e siamo state alle Maldive. E questo è stato un regalo della Genesa e dell'Elena. Io non avrei mai potuto pagarmi un viaggio alle Maldive. Bellissimo. Quindi cioè io dico alle persone, non è la Genesa che fai, è proprio il tuo atteggiamento verso la vita. Cioè se tu hai un atteggiamento verso la vita di fiducia e di gratitudine anche per quello che hai, le cose arrivano. Arrivano. E quindi quello è soltanto uno strumento per sintonizzarsi alla frequenza giusta poi alla fine. E quindi funziona perché ha tutte le misure giuste come abbiamo detto e a quel punto funziona. Semplicemente questo. Poi la cosa molto bella è farlo magari con i nostri figli. Perché a me è servita, la Genesa mi ha portato anche l'unità con le mie figlie, l'unità familiare. Perché quando loro vedevano che io chiedevo le cose, mi arrivavano. Allora all'esame per esempio di maturità mia figlia che aveva molta paura mi ha detto mamma mettimi nella Genesa voglio stare tranquilla, non voglio avere paura. E così anche altre cose che mi hanno chiesto. Tipo mia figlia era a Londra prima del lockdown e rischiava di non venire più in Italia perché se chiudevano le frontiere lei non aveva più un lavoro e non avrebbe potuto ritornare. Certo. Sarebbe stato un guaio per noi. Gli hanno cancellato il volo un giorno che era quasi l'ultimo ma poi gli hanno trovato un posto per miracoli in un altro volo che era proprio l'ultimissimo. L'ultimo. Sì. È la Genesa, non è la Genesa, non lo so. Però io vi posso dire che mi ha cambiato la vita perché è una sfera che a me dà una sensazione di amore incredibile. E l'energia è amore. Quindi è tutto energia, tutto è vita, tutto è amore. Quindi l'ira chiude evidentemente una potenza non indifferente. E quindi tu la senti, dai fiducia e funziona. Quindi è un dare avere. Esatto. Angela. Ok. Ti ringrazio. E allora ricapitoliamo velocemente. Allora la tua pagina Facebook come si chiama? L'Orella di Luce perché mi sono cambiata il nome. L'Orella di Luce perché c'è sia la fanpage che il profilo personale. Però il profilo ormai ha già raggiunto i 500 contatti. Quindi l'Orella di Luce va benissimo. Sì. C'è il mio sito internet www.lorelladeluca.it. E poi per chi abita qui a Roma, io abito a Ostia, quindi per chi ha voglia di fare dei percorsi individuali di meditazione, li faccio sia in pineta che al mare. Ah, ecco, bello. Per ora ci possiamo andare. Poi chissà, quindi voglio approfittarne. No, speriamo sempre, sempre. Va bene. Allora ti ringrazio, L'Orella. È stato un piacere. Almeno ho imparato qualcosa. Perché ero incuriosita da questo strumento e tu mi hai chiarito tutto. Grazie di cuore. E sono contenta di aver messo a disposizione anche questa intervista per chi mi segue, perché magari tantissime persone non sanno proprio cosa sia e quindi metterle in curiosità magari chissà migliora anche la loro vita. Ecco, il tuo libro. Per di cuore puoi acquistare il libro sulla mia casa editrice www.youcanprint.it oppure lo trova anche sul Giardino dei Libri, su Macrolibrarsi, in modo magari da approfondire di più e per il caso a disposizione per la creazione. Ok. Grazie. Ti ringrazio. Ciao. Un abbraccio. Un abbraccio. Anche a te. Ciao, ciao. Ciao.